L'ospitalità della sua casa, il dono dei suoi beni e anche della sua fidanzata per onorare l'invitato. Bella ragazza, ti saluto e dalle mie mani degnati, mia cara, di ricevere uno scialle. Prendilo nelle tue bianche mani e amami. Non so come comportarmi, che regalo fare alla mia amata. Un grande scialle. Per questo scialle ho diritto a cinque baci. Ti abbraccerò, ti stringerò, ti cingerò d'un nastro rosso. Ti chiamerò cara Speranza. Mia cara Speranza, è vero che mi ami? Mia cara Speranza, è vero che mi ami? Speranza, la sua fidanzata. Ciao. Grazie a tutti.